Musica adesso andiamo all'ombrellone devi mettermi bene gli asciugamani senza neanche una piega devi stenderlo bene sul lettino poi mi metti la crema nella spalla andiamo a fare shopping andiamo a fare anche un aperitivo aspetta che mi cambio merda che sera del progetto mi lasci così io ti fai male facciamo il settimo facciamo il settimo facciamo il settimo facciamo il bagno io guarda il bagno io guarda fuori allora io sono pronto posso andare a fare il bagno stai a fare il bagno così sono già parato un bagno di figli abbiamo quest'anno fammi la parte a Sassuogo guarda io guarda io non lo so 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 ma è ben macchiale non lo so 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 e lì mi ha rotto mi ha rotto le palline prima no ora l'ha girato in spalle se lo piglio mi vedi c'ha la paura non lo so 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 diciamo non lo so mio amico piccolo. Suo padre ha la playstation 2, il suo fratello che è più piccolo di lui ha la playstation 3, lui che è più intelligente di tutti, io non ho la playstation 4, mia cretina hai dato il mio nome, non ho avuto nomi, arriva quello della playstation 3, lo so anch'io Riccardo, te hai playstation 3? Riccardo, hai playstation 3? Stiamo registrando sul video di YouTube, si, ma che gioco fai di solito PS4? Niente, bene, a PS4 non c'era Nicolò? Si, Nicolò gioco qui, il gioco segnale a PS4 crocegno 2 gioco di odio, Minecraft di calutari li avevo tutti guardo Quelli di ora, quelli fatti da ora. E' anche quando ti dici Black Pops. Black Pops. Black Pops. Black Pops. Black Pops. Black Pops. Facciamolo, siamo qui al mare, siamo a attendere un po' di passare la giornata. Non mi dovrei tornare a me la casa così, con la play, anche in più che anche. Anch'io non mi dovrei finire questa giornata per attaccarmi alla mia PS4. Compagnia di Frank Mazzoni. L'editrice, moderatrice. Nicolo, un saluto a Nicolo. E un saluto a Riccardo. I signori da Frank Mazzoni tutto. Passi. Ma tu stavi filmando? A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.